Musica All'aria, tra virgolette, per cui la ceramica è diventata rossa. Se io ieri sera volevo fare una cottura diversa per ottenere della ceramica nera, avrei dovuto far spegnere il fuoco coprendolo con della terra, in modo da creare un ambiente all'interno privo di ossigero, quindi in atmosfera riducente e mi venivano delle ceramiche nere. Però in questo caso non l'ho fatto perché non ero tanto sicuro di riuscire comunque. Ancora, voglio sentire il fuoco. Ancora, voglio sentire il fuoco. Ancora, voglio sentire il fuoco. E' questionerà, voglio sentire il fuoco. Ancora, voglio sentire il fuoco. Ed o fin, versi un'altra termina perchè è iniziata. Questo qua è un crogiolo, in pratica è un pentolino che ha un impasto molto refrattario, quindi può andare ad alte temperature e l'ho fatto per colgarlo all'oro e ci fonderanno qua dentro il bronzo. Questo è un piattino che ha fatto tutte le decorazioni in Cile, hai visto? Con un peccino, tutte le onde, è una ciotolina, con un altro, questi ho paura che si rompano, però sono troppo calmi, questo si è rotto, vedete? Questo si è rotto. Grazie. 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 Grazie.